In questa partita appoggio cosa dice? Conte lo chiama campo giusto piuttosto che campo largo progressista, fatica un po' a dirlo. Per me è un campo di centro-sinistra, un campo progressista, ma soprattutto è una politica larga, progressista, che si mette a servizio di una riscossa civica. Cioè questa città ha bisogno di una riscossa civica dopo questi anni di disastro e credo che il tema della legalità, della sicurezza sia il punto fondamentale perché sulla base di questo si possono riprendere le strade della crescita. E credo che aver organizzato un campo progressista così ampio sia un bel segnale anche per l'Italia. Foggia la sento un po' come la capitale di un progetto che deve arrivare.